bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono xyoder allora amore mio è successo una cosa è arrivato un easter egg nella mappa di fortnite e siamo nel bosco blatterante non a caso sai che cosa è arrivato su c'è un perché sai che cosa è arrivato un cosa un bunker ragazzi lo state vedendo guardatelo qua guardatelo qua ragazzi c'è una cosa strana veramente è molto particolare ragazzi è apparso nella mappa un bunker segreto che secondo me vedi che si apre devi inserire qualcosa da dietro si apre non lo so perché ragazzi apparentemente sembra tutto normale però c'è tutto normale no perché è apparso però ragazzi a parte che la mappa si sta modificando di settimana in settimana in quel buchino lì ci dovrai mettere qua vedrai che fanno qualcosa di particolare secondo me devi inserire qualcosa secondo me invece questo è un gelogrifico che dobbiamo assolutamente decifrare a me sembra una vicella spaziale perché ci sono delle frecce questo è capito però potrebbe essere anche dei fori mi dice ecco ecco non avevo capito mi avevano detto due ragazzi e modo da azionare il bunker no vedete che ha una tipo soloso che tu provo a scendere e con il drone no avevano detto che si poteva entrare col drone ma non si vede dentro un bucchetto sto provando a vedere nei bucchetti ma non è facile guarda 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 intanto è palesemente un passaggio segreto ragazzi ma però secondo me non ci fa entrare qualcosa non ci fa entrare col drone qualcuno diceva ragazzi che dovrebbe essere un passaggio sotterraneo segreto che arriva fino alla fontana del lago al centro della mappa altri invece dicevano che poteva essere un qualcosa per il razzo ma io sinceramente a me sembra proprio un passaggio segreto questo è palesemente un passaggio vedi qua si può si vede dentro ma non si capisce molto ragazzi le vostre teorie quali sono secondo me la cosa più misteriosa rimane certamente quel disegno che c'è segnato sul bordo del bunker da ragazzi questo è un nuovo easter eggs che epic games ci vuole regalare noi vi ringraziamo tantissimo per avere guardato questo video mettete like iscrivetevi al canale fateci sapere sotto con un commento cosa ne pensate del bunker noi ci vediamo presto ciao